Questo è il gesto che fa andare avanti una società, una famiglia, un quartiere, una città, tutti questo, darsi, dare, che non è dare una elimosina, no, è darsi dal cuore, e non questo gesto che tira indietro con l'egoismo, l'ansia di possedere e queste cose. Ma il modo cristiano di fare questo non è un modo meccanico, è un modo umano. No, noi non potremmo, mai potremmo uscire dalla crisi questa, che si è evidenziata dalla pandemia, meccanicamente, con nuovi apparecchi, ma sono importantissimi. Eh, padre, c'è l'intelligenza artificiale, è importante, ci fa andare avanti, non avere paura di queste cose. Ma sapendo che neppure i mezzi più sofisticati potranno fare una cosa, potranno fare tante, ma non potranno farne una, la tenerezza. E la tenerezza è il segnale proprio della presenza di Gesù. Quello avvicinarsi al prossimo per fare andare avanti, per guarire, per aiutare, per sacrificarsi per l'otro. Non dimenticatevi questo. Così è importante che la normalità del regno di Dio, ripeto, il pane arriva a tutti e ne avanza. L'organizzazione sociale si basa sul contribuire, condivire, distribuire con tenerezza, non sul possedere, escludere e accumulare. Alla fine non ti porterai niente dall'altra parte.